della messa stiamo guardando i riti della liturgia eucaristica e abbiamo detto che all'offertorio dopo il ringraziamento per tutti i doni che abbiamo ricevuto il sacerdote inizia una preghiera chiamata prefazio che cos'è è una invocazione in cui ognuno di noi innalza il proprio cuore al signore lodando dio per i suoi doni e preparandosi al grande miracolo della consacrazione è il momento cioè in cui ricordiamo che tutto quello che stiamo facendo renderà presente realmente dio nel dono di suo figlio gesù cristo che per noi si dona ed è per questo che dopo il prefazio noi acclamiamo santo 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 osanna nell'alto dei cieli usando un'antica parola per dare gloria a colui che è il re della gloria